Un percorso ripreso a distanza di pochi mesi, Gabriella Ficocelli ha accolto con entusiasmo il ritorno all'assessorato ai servizi sociali della Comune di Taranto, aveva già ricoperto l'incarico a lungo nella Melucci 1 e ha ritrovato la delega alla fine del dicembre appena trascorso con il desiderio di completare e rafforzare i progetti avviati in precedenza. Come dicevo prima, è emozionante e appassionante allo stesso tempo e soprattutto non possiamo perdere più tempo e dobbiamo andare avanti in modo tale da dare risposte ai bisogni della nostra società. Ficocelli è espressione del gruppo Taranto 2030, ha subito ricominciato gli incontri con la società civile per l'ascolto dei bisogni, l'ultimo appuntamento in ordine di tempo si è svolto alla biblioteca Clavio con le associazioni del terzo settore. Una grossa mano per i servizi sociali arriva adesso dal piano di rigenerazione sociale realizzato con i fondi Exilva, milioni di euro, sei già utilizzati, destinati alle categorie sofferenti della società, ai minori, gli anziani, le famiglie e i disabili. Mi emoziona sempre tantissimo parlare del piano di rigenerazione sociale perché avendoci lavorato di prima mano è importante vedere adesso i risultati di tutto ciò che si è fatto, non soltanto in termini economici ma soprattutto in termini sociali e in termini di raccolta di tutte le informazioni e bisogni del territorio ai quali si può dare una risposta.